Una terra ai suoi artisti, artisti direttanti di mostra a Subbiano, Subbianart, questo evento in Piazza del Castello. Allora, di cosa si tratta? Allora, per la prima volta nella nostra zona abbiamo pensato di organizzare una riunione di tutti gli artisti della provincia di Arezzo. Il 23 di agosto, nel pomeriggio, l'associazione La Cornocopia è l'organizzatrice di questo evento. Chiunque possiede delle capacità artistiche e quindi vuole far vedere agli altri cosa sa fare, lo può fare contattandoci nella nostra pagina Facebook. Noi siamo disponibili a tutti, quindi abbiamo già raccolto diverse iscrizioni, siamo intorno a una cinquantina di partecipanti, ancora ci sono degli spazi. Noi forniamo tutto l'appoggio sia di logistica che di pubblicità e di assistenza, quindi l'invito è per tutti coloro che hanno desiderio di farsi conoscere e di contattarci. È un modo quindi per mettere in mostra la propria arte, quindi per dare un po' di libertà anche a chi vuole mettersi in mostra. Ma sì, infatti, perché spesso capita che ci sono persone che sono veramente brave nella loro arte e però non sanno come farsi conoscere. Oppure farsi conoscere attraverso queste mostre ha un costo. Noi lo facciamo a titolo gratuito proprio per dare l'opportunità a tutti quelli che lo vogliono di farsi conoscere da amici, conoscenti, ma anche da persone sconosciute che potrebbero avvicinarli per la prima volta. Allora, per iscriversi tramite la vostra pagina Facebook? Basta semplicemente la pagina della Cornocopia su Facebook, basta mandare un messaggio, poi noi rispondiamo subito, ci basta sapere il nome e cognome, il numero di telefono e per cosa le persone si vogliono presentare.